Buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV al nostro consueto appuntamento del mattino con i giornali che tra poco sfoglieremo con il touchscreen e vedremo quali sono le notizie più importanti dal resto del Carlino del Corriere Adriatico, le edizioni in edicola di Pesaro e Urbino. Il santo di oggi lo vediamo, oggi è un santo che addirittura è dell'anno 60, quindi torniamo molto molto indietro, è San Policarpo Vescovo e Martire che è nato a Smirne in Turchia nel 69, nell'80 viene convertito alla fede cristiana da San Giovanni Evangelista e verso l'anno 100 è nominato Vescovo di Smirne. Il sole è sorto alle 6.54 e tramonterà alle 17.49 minuti. Il tempo per oggi vediamolo subito dal bollettino meteo della protezione civile delle Marche che per oggi prevede un cielo sereno poco nuvoloso con addensamenti a ridosso dei rilievi, le temperature saranno in lieve aumento, i venti sud occidentali di brezza tesa o moderati con raffiche fino a vento forte sul crinale appenninico. Per domani, venerdì 24 febbraio, avremo un cielo parzialmente nuvoloso per nubi orografiche con pioggia nel pomeriggio, occasionali piovaschi per divenire sparsi ed assumere carattere di rovescio dalla serata di venerdì. Temperature ancora in aumento, ancora vento fino a burrasca forte sul crinale appenninico. Sabato 25, il tempo è ancora irregolarmente nuvoloso, soprattutto al mattino, poi dalla tarda mattinata a partire dal nord della regione Marche cominceranno le schiarite che andranno poi a interessare tutto il resto della regione. Poi il cielo diventerà sereno nel corso del pomeriggio, quindi va da sé che i rovesci saranno limitati al mattino, con temporali sparsi un po' ovunque, fenomeni assenti invece nel pomeriggio. I venti sono moderati o tesi lungo la costa, con rafiche fino a burrasca sulla costa per la giornata di sabato. Dicevamo che questa rapida espansione dell'alta pressione poi garantirà giornate stabili e soleggiate con temperature e ingredolamento anche nei prossimi giorni. Allora, dicevamo i giornali. I giornali cominciamo dal Corriere Adriatico. Questa mattina la pagina principale di Pesaro, la svolta green per l'ex AMGA di Pesaro. Niente torre, sarà un'area verde, dalla ciclabile alla copertura dell'ex consorzio. I dubbi sul fine bonifica e l'accordo con i privati. Mentre centro pagina, lo vedremo tra poco, questo tir, questa cisterna che è finita nel fosso, c'è stato questo maxi travaso di benzina dove sono stati recuperati 36 mila litri di carburante con una ditta speciale, addirittura due mezzi che sono arrivati da Venezia, da Mestre. Allora, la sanità. La sanità in primo piano sul Corriere Adriatico con il patto dei 13 sindaci, il patto di Piagge, che piange però perché di fatto ieri mattina questo patto si è arenato. Non è passata la proposta nel pesarese di un modello omogeneo di assistenza ospedaliere per acuti su più presidi, quindi anche negli ospedali interni. Quella firmata dai sindaci di Barchi, Cartoceto, Fossombrone, Mondolfo, Montecopiolo, Montefelcino, Montelabate, Orciano, Pergola, Piagge, San Giorgio, San Lorenzo in campo e Sant'Ippolito. Dunque un voto che era sì atteso ma che certamente un po' brucia. Mentre la richiesta del sindaco di Fano, Massimo Seri, il Santa Croce è il punto di riferimento per 140 mila abitanti, dunque a Fano c'è la necessità di mantenere una struttura di qualità. Mentre i sindaci che si sono ritrovati ieri in Urbino per parlare di sanità con il presidente Ceriscioli parlano di reparti al collasso e c'è anche tanta sfiducia tra gli utenti. Nell'entroterra sale infatti la preoccupazione e volano le accuse. Ma Ceriscioli va avanti, Ceriscioli lancia la riforma 4.0, sistema sanitario più high tech, più tecnologico. Il governatore punta su un piano che parta dall'analisi dei bisogni e venga incontro alle istanze della rete dei comitati. Ora speriamo che davvero il nostro presidente sia un presidente lungimirante che stia vedendo tutto bene da qui ai prossimi vent'anni, altrimenti sarà un guaio. La pagina di Fano invece è sulla cronaca, la banda che è stata presa, quella dei self-service, dei carburanti, delle aree di servizio, operazione Tenaglia, il casello. Cinque romeni avevano già colpito l'altra notte a metà origlia di Fano, pedinati e circondati dai poliziotti. Ecco qui le loro fotografie sul tavolo della conferenza stampa della polizia di ieri in questura, i banditi arrivavano da Roma, squadra mobile e commissariato allertati dalla questura di Rieti. Le criticità economiche, sempre sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico, le criticità economiche per l'inerzia della giunta. Il Movimento 5 Stelle contesta la mancanza di iniziative per la nautica, start-up e sostegno alle aziende. Segnalati le priorità di un incubatore di imprese e il progetto per la cana. e poi sotto l'iniziativa che coinvolge tutta Italia, mi illumino di meno anche in città, domani il Comune organizza eventi in Piazza Miani, Memo e Chiostro delle Benedettine. Il Carnevale oggi è giovedì grasso, il Carnevale oggi è il giorno delle stravaganze, giovedì grasso ricco di appuntamenti, il via in piazza con la piece sulle zittelle e l'origine del getto, quello delle caramelle o dei dolciumi. Seguirà in teatro il concerto delle boli di sapone, poi tutti scatenati nel ballo del party silenzioso, quello che vi dicevo ieri, con le cuffie in testa. Oggi un programma all'insegna del divertimento, pensato per tutte le età, mentre la fotografia oggi se la merita tutta. Filippo Tranquilli nei palmi del Voulon, che anima ogni domenica mattina il Carnevale dei Bambini. E domenica, l'ultima domenica di Carnevale a Fano, si prova la ola più grande del mondo, si tenta di battere il record dei Guinness dei Primati, sarà tentato in Viale Gramsci, la ola dovrebbe partire da Via Cavour, quindi tutte queste persone che alzeranno le braccia alternandosi e facendo sì che appunto dall'alto si veda questa forma di onda. e muovendosi da Via Cavour dovrebbe appunto, come un'onda, arrivare fino a Viale Gramsci, tutto Viale Gramsci per terminare al Pincio. Ricordo che l'attuale Guinness è composto da 15.000 persone. Teoricamente se tutti fanno il loro mestiere domenica e tutti saranno coordinati, potrebbe essere superato. Dalla Valle del Cesano invece da Pergola, la foto è per il sindaco Baldelli con castratori che mostra una telecamera, perché? Perché le telecamere a Pergola finiranno negli ingressi, agli ingressi del paese e serviranno contro la criminalità. Prevista un'innovativa videosorveglianza per documentare passaggi e auto rubate. Le immagini saranno gestite dalla Polizia Municipale, gli allarmi invece dai carabinieri. Potenziare le attività scistiche, un catastrofico errore. Gli ambientalisti uniti contro il finanziamento di 3 milioni della Regione per l'impianto, il nuovo impianto del Monte Catria. E poi, dicevamo, abbiamo già visto in apertura le fotografie di questa cisterna che è finita su un fosso. L'autista probabilmente è stato colpito da un colpo di sonno. Recuperati 36.000 litri di benzina. Emergenza sulla 14 per questa autocisterna. è arrivata una squadra speciale dei Vigili del Fuoco da Venezia e qui siamo subito dopo il casello di Fano in direzione sud. Le complesse operazioni sono state svolte dalle 3 di notte fino a quasi le 6 del pomeriggio con rallentamenti del traffico. Da Senigallia, sempre dalla pagina del Corriere Adriatico, i problemi per il concorso dei Vigili a tempo determinato. Voti gonfiati e impieghi fantasma. Le ombre sul concorso dei Vigili spuntano altre irregolarità. Nel mirino la documentazione sulle mansioni svolte in altri comandi. Praticamente ci sono questi candidati che qualcuno ha fatto il furbetto, chi ha scritto che aveva preso 100 all'esame, chi aveva fatto quello piuttosto che quell'altro. Un po' che poi alla verifica dei fatti, andando a fare i riscontri, è emerso che non tutto quello che era stato dichiarato e scritto in queste domande corrispondeva a realtà. Laura Filonzi, che è la dirigente delle risorse umane, ha detto che sono stati riscontrati errori materiali nell'attribuire i punteggi. E questa è la pagina di Senigallia. L'altra invece riguarda una vicenda che è accaduta in un bar sempre di Senigallia, un ubriaco, un ubriaco tra i bambini che giocano, scena di panico al foro annonario, bloccato da polizie e vigili. I testimoni sotto shock raccontano che quest'uomo ha tentato di prendere in braccio persino un ragazzino. E un ragazzino invece a Fabriano è stato umiliato in classe dai suoi compagni bulli. Adesso ti devi mettere in ginocchio. In due lo sbeffeggiano, i compagni di prima media ridono. Il preside li abbiamo ammoniti. Da Iesi invece la vicenda di un pensionato di 80 anni, vittima di un caso di omonimia. Gli arriva una lettera dalla banca, lei è morto, l'Inps non gli paga più la pensione. Ha 80 anni, appunto, vittima di un caso di omonimia. Ha segno congelato, ma sa come provvedere. Non sa, scusate, come provvedere a due sorelle invalide. E quindi qui c'è tutta la storia. La beffa risulta deceduto da gennaio. Gli chiedono di restituire il compenso di febbraio, ma lui per fortuna ancora è vivo e vegeto. E sempre a Iesi, vedete, sotto la notizia di un frontale, tra due auto feriti, padre e figlio. Ancora dal quotidiano il Corriere Adriatico, il titolo dalla pagina di Urbino, il piano di Pieroni contro i cinghiali, dirigente ad hoc e rimborsi certi. L'assessore regionale spiega la nuova legge e annuncia un tavolo sistematico bimensile. Il sistema adesso si riorganizzerà, ma la pericolosità delle strade è causata dai caprioli. Non soltanto i cacciatori nel mirino della LAC, perentoria presa di posizione sull'abbattimento esteso anche alla riserva del Furlo. In questo caso si parla dell'abbattimento dei cinghiali. Andiamo adesso sulla pagina di Pesaro e Provincia per chiudere il Corriere Adriatico, soltanto per segnalarvi la presenza dell'amico cardinale, perché lo ricorderete, i pesaresi sicuramente se lo ricordano, perché il cardinale Bagnasco è stato anche arcivesco di Pesaro per diversi anni. Ebbene, adesso è presidente della Conferenza Episcopale Italiana e tornerà qui dalle nostre parti, a Montecchio. Montecchio adesso aspetta Bagnasco, arrivo previsto sabato, Don Orlando dice niente di ufficiale, ma che grande emozione. E dunque Vallefoglia attende l'incontro con il prelato che ha aiutato l'intera comunità. Sindaco Ucchielli, la palestra di Montecchio intitolata a Nazareno Guidi. Il Sindaco Ucchielli informa che nell'ultima seduta di giunta è stato deliberato di intitolare la palestra comunale a Nazareno Guidi, che è lo storico sindaco di Sant'Angelo in Lizzola, scomparso a maggio dell'anno scorso e che è stato primo cittadino dal 70 al 75. Mentre a Fossombrone una ricetta per la ripartenza con Fartigianato, CNA e Commercio inviano le proposte alla giunta guidata da Bonce. Siamo sul resto del Carlino, la pagina principale è per il museo della bicicletta, creato da due privati è già pronto, ma il comune nicchia, chissà se finirà in Romagna. Questo è il titolo del Carlino. Poi anche qui dai distributori alle rapine in villa, restati cinque pendolari del crimine. Matteo Ricci aspetta il cantiere navale, poi ripartiremo dopo la riunione al porto con i residenti, accuse ai costruttori. Andiamo adesso invece sulla pagina di Fano del resto del Carlino. Eccola qui, bomba, scatta il piano di evacuazione. C'è un'altra bomba, dopo quella di Cerasa, fatta a brillare nei giorni scorsi, ce n'è un'altra recuperata a Ronco-Sambaccio che verrà fatta brillare il 4 di marzo. Coinvolti nel piano di evacuazione, un ristorante, un centro immigrati e decine di abitazioni. L'esplosione avverrà nella Cava di Bellocchi, martedì alle 18.30. Se ne parlerà al centro la figurina. E questa è la pagina del resto del Carlino. Poi si parla anche di Carnevale, Carnevale che tenta il Guinness dei primati. Faremo una ola mondiale, coreografia da Via Cavour al Pincio per battere il record. E poi, poi ancora sotto, anzi nell'altra pagina del resto del Carlino, questa volta da Mondavio, la cronaca ammazzò la moglie, neanche 20 anni, delitto iatesta, sconto di pena in appello a Gino Ruggeri. I familiari, vergogna. Calcolando i bonus tra dieci anni, il condannato potrebbe essere già libero. A Pergola, linea diretta con l'arma dei carabinieri, grazie alle telecamere intelligenti, nuove misure contro la criminalità, i passaggi sospetti di auto saranno intercettati e immediatamente verificati. In questa immagine, in questa fotografia, vedete il sindaco di Pergola Baldelli che stringe la mano al comandante della compagnia carabinieri di Fano. Alfonso Falcucci. E ancora, siamo in chiusura, Mercatello sul Metauro, guardate che bella piazza, quella di Mercatello, che adesso si illumina di una nuova luce, un impianto da un milione di euro con i fondi del governo. Sono state sostituite le luci che di fatto risalivano al dopoguerra. Effetti scenici, grazie alla luce a LED. Preso il ladro d'ospedale, a Pesaro aveva rubato computer, tablet a un medico del reparto di radiologia. È stato denunciato, si tratta di un 38enne disoccupato di Pesaro di origini pugliesi. Anche qui da Vallefoglia, sul Carlino, la notizia che la parrocchia è in festa per l'arrivo di Bagnasco. E ancora, direi che possiamo fermarci qua, anzi, sì, ci fermiamo qua. La rassegna stampa, dunque, si conclude qui. Io vi ringrazio per la vostra attenzione. Vi ricordo che a questo numero, che vi invito a memorizzare sul cellulare, potete inviarci segnalazioni, dalla cronaca, incidenti e quant'altro, fino a fotografie, audio, video, quello che vi pare. Con WhatsApp, ormai possiamo fare veramente di tutto. Ci aiutate, e noi vi ringraziamo per la collaborazione. Ci vediamo stasera alle 20.30 con Occhio alla Notizia. Arrivederci.